Musica Si è tenuto questa mattina nell'Aula Nugnes in Via Verdi un incontro promosso dalla Commissione Cultura per discutere sul decreto varato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, emanato nel luglio 2014. Presenti al confronto il Presidente Vicario dell'Artec Campania Gianni Pinto, il Presidente dell'Agis Campania Luigi Grispello e numerosi protagonisti della scena teatrale napoletana. È una sorta di protesta contro questo decreto del Ministro Franceschini. Napoli è la città della cultura, la musica è nata a Napoli, il teatro è nata a Napoli, i migliori registi sono napoletani. Noi esponiamo le nostre ragioni alla Commissione Cultura del Comune che cortesemente ci ascolta sperando che poi questo ascolto si traduca in azioni concrete di sostegno al nostro settore. Durante l'incontro è stata espressa una forte critica nei confronti del decreto cultura e il disagio dei teatri napoletani con la richiesta al Comune di sostegno, collaborazione e di una forte interlocuzione con il Governo centrale. A sottolineare l'impegno che il Comune ha sempre avuto e continuerà ad avere nei confronti dei teatri partenopei è intervenuto l'assessore alla cultura Nino Daniele per ricordare alcune delle iniziative culturali proposte da questa amministrazione. Grazie appunto al contributo di tante straordinarie energie, soprattutto giovanili, stiamo cercando di animare la vita culturale della nostra città. Vorrei ricordare in ultimo questa bella settimana che abbiamo chiuso con Piano City, un evento veramente straordinario.